Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un altro video di Rayport del torneo di sabato 24 Per il torneo di sabato avevo deciso di portare Trickster, anche se sapevo che era una pessima scelta contro 15 mazzi che spammano mostri in randello, solo per vedere come se la cavava nel nuovo formato e anche per il semplice fatto che non avevo avuto tempo fisico per preparare qualcosa di diverso Prima partita del giorno contro cybers, ovviamente perdo il dado ma per una volta mi fanno andare per primo Apro con la combo illegale di draw reincarnation, permetto a chi gioco soltanto due draw Mi scuso con l'opo e faccio quello che devo, gli bandisco tutta la mano, la prima partita è vinta E purtroppo questo è Yu-Gi-Oh il gioco di carte collezionabili Seconda partita, vado secondo, mi trovo contro una bella board con decode, boots taggered equipaggiato con moon mirror shield e due settate Calo un doveroso board wipe, non mi ricordo se era buco nero o raiiechi E quindi procedo con la solita routine di candina, light stage e doppia licorice Entro in battle, lui mi gira un capro, resta solo un segnalino e non prendi danni a parte i 500 di moon mirror Al turno successivo pesca e viene burnato di doppia licorice ma non vede nulla Evoca Rome Claudio a provare di bittarmi su una delle due licorice che ho sul campo ma io rivelo onesto Turno successivo attacco con tutto ed è GG 1-0 Secondo game del giorno contro monarca, ovviamente perdo il dado come al solito e vado secondo Il ragazzo mi calla subito tutto il pacchetto monarca, quindi magia continua che adda, dominio e vanity che non fa fare special In mano non ho risposte, aspetto un altro turno perché magari potrei pescare un kaiju ma non lo vede e decido di concedere Seconda partita parto io e vedendolo contento della sua mano vado giù subito di reincarnation alla cieca Il numero da circo funziona stranamente e lo faccio briccare, non vede carta evocabile e finisce la partita al terzo turno Terza ultima partita, ovviamente vado come al solito secondo Lui cala sul board majesty con dominio e avanzata dei monarchi dietro Per un attimino sudo freddo ma quando pesco la sesta vedo kaiju che lancio subito sul board E quindi inizio a fare i fatti miei con candina che adda licorice Bitto, calo onesto e rotazione mi calo la licorice e termino Lui prova in tutti i modi di aggiungersi carte dal mazzo ma l'unica cosa che succede è che va ad uccidersi da solo Alla fine riesce a pulirmi ma resta con 1000 life points Gioco il terraforming che mi ero tenuto, cerco la terreno che va a cercare di evocare Lilibel La evoco e attacca diretto per 1000 life points precisi Game 2-0 Terzo game del giorno contro invoked, true draco e zio peppo post e pay Vedo l'avversario e so già che è uno zio peppo Ci avevo già giocato contro lo scorcio formato, aveva Pendle Magician Perdo il dado ma stranamente mi fa andare per primo La cosa mi preoccupa ma decido di giocare normalmente Stando attento soltanto a una possibile Ashe Purtroppo ho una mano di legno con candina, onesto, camera oscura dell'incubo Licorice e mi sembra Veiler Vorrei piangere ma non lo faccio Candina cerca light stage e non si becca Ashe stranamente Light stage cerca Licorice Quindi provo di attivare la mia camera oscura Termino il turno con la terreno Due Licorice in attacco per tenermi pronto a calargli un onesto, doveroso e camera Fa la sua pescata poi va dritto alla fine della battle e già so cosa mi sto per becchiare E ovviamente mi cala la Heavenly Matched ritorna alla faccia Quindi in main 2 va giù con Masterpiece, Immuna, Mostra e Magie Io pesco, vedo il nulla cosmico Ovviamente se mai pescare un Kaiju quando ti serve Concedo e prego nella seconda Provo di iniziare io anche la seconda nonostante rischio di beccare mi Heavenly Matched Sperando almeno almeno di vedere subito un Kaiju oppure qualche carta per burnarlo di 2 o 4k come prima Ma non è così Candina si becca Ashe subito, in mano non ho risposte adeguate Lui procede a fare tutta la sua combo con gli invoked E nonostante gli vada a rompere diagram con Ogre mi cala Master Pene, Immuna, Mostra e Magie Spero nella draw ma come prima 0 Kaiju Concedo e ringrazio Gesù per le partite divertenti 2-1 Quarto game del giorno contro Spiral Ho già giocato prima che cominciasse il torneo contro di lui Quindi sa già che cose gioco, i Kaiju di main, gli onesti e tutto il resto Game 1 da brava persona furba ovviamente ci gioca attorno ma alla fine vincolo lo stesso di Burn Grazie a un provvidenziale anello della distruzione che me lo porta a 400 life points giusti Che gli vengono tolti il turno successivo di draw con Licorice alla terreno Game 2 invece è un disastro totale Io ancora sono triggerato a merda con il tizio del leveling e la mia concentrazione è pari a 0 Tant'è che sbaglio la giocata e invece di calare un underclock per tirare giù un suo decode Visto che avevo una Licorice già in campo e vincere di Burn esatto Decido senza un motivo apparente di fare una Trickstar Holy Angel inutile che non mi fa neanche pulire il suo decode Da lì in poi è un disastro e praticamente mi ammazzo con le mie mani Game 3 sarà difficile da credere ma bricco col Trickstar Non ho niente di vocabile a parte onesto Ho 3 camere oscure dell'incubo, un Kaiju e un Veiler Inutile visto che ha la Terreno Spiral Ricco, 2-2 Bilancio della giornata Sesto posto su 16 persone Con l'ultimo game regalato perché sono un Pirla Il mazzo non è più adatto a giocare in un ambiente con troppi deck diversi Come già pensavo quando ho registrato il mio vecchio video dei Tierlist I Kaiju quando servono non li vedi mai E Masterpiece è ancora un pezzo di merda colossale da levare dal campo Prossimo fine settimana probabilmente porterò un altro mazzo per testare come se la cava contro la varietà del negozio E il Trickstar come avevo già detto è un mazzo che ha un bisogno disperato di un metafiscio con massimo 2-3 mazzi Perché hai bisogno di sapere contro cose giochi Per poter birdare il main deck e il side apposta per counterare quei 2-3 mazzi e basta La varietà lo ammazza purtroppo Detto questo ragazzi vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale Ciao a tutti